filmino d'un bosco per le riprese dall'alto tutta erba è un bel pesce molto bello e però non è molto convinto un barbo un barbo barbo un barbo secondo me l'ho intravisto no poi lo vedevi come sta sul fondo notare se mi rimorchio nelle immagini eh sì ma sei già al limite del filo se ci fai caso e non diglielo non diglielo che sennò si offende adesso basta che lo guadini l'hai preso sì ma il fatto che questa corrente qui devi anche ridere cura che adresa è un bel barbo è un bel barbo che bei momenti grazie un po' come ho agganciato bene ma che bei colori che è come è sano Fabio grazie sono molto commosso io